Io credo che la più bella e grande enciclica sia l'ultima, un'enciclica che non ha scritto ma che ha vissuto sulla sua pelle, l'enciclica della sofferenza. Penso questo io. Rita Meliorin, lei è stata, come abbiamo detto fino alla fine, qual è l'ultima immagine che conserva nel suo cuore del Papa? L'immagine più forte è stata quella degli ultimi momenti in cui il Santo Padre guardava nella sua stanza fisso davanti a sé, c'era un quadro che rappresentava la crocifissione e non ha mai smesso di togliere lo sguardo da quel quadro. Questa è un'immagine che porterò sempre con me. Sembrava che in quel momento lui fosse ai piedi di quella croce e si stesse donando anche il suo sacrificio per noi. Un'altra immagine importante è quello che il Santo Padre ha sentito fino all'ultimo i suoi figli che lo acclamavano in piazza. Perché nel piazzale c'erano in tanti? Tutte le persone che pregavano e che lo chiamavano con forza, i ragazzi che cantavano per lui. Questa è stata una cosa bellissima che ho imparato in quella sede. Per me era quasi un voler... mi sembrava che gli dessero fastidio e invece quelle voci erano le voci dei figli che lo stavano salutando e gli stavano dicendo che erano lì con lui nel momento più importante della sua vita e della nostra vita sicuramente. E che erano... e si era compiuto già un qualcosa di non ordinario. Cioè dalla sofferenza tendiamo ad allontanarci, di solito tendiamo a non guardarla, a girarci, a tenerla il più possibile. Lei poi conosce perfettamente l'effetto che fa la sofferenza. Lì invece la sofferenza riuniva. Perché lui è... riconoscevamo in lui il padre. E un padre non può essere abbandonato in un momento così forte. Lui ci ha dimostrato che non ci ha abbandonato nel momento più delicato della sua vita. Quando tutti noi diventiamo un pochino più egoisti generalmente nel momento della malattia. Tendiamo a pensare più, no? A concentrare tutte le energie in noi stessi. Lui invece ha donato quei momenti così difficili a tutti. E era lì con noi tutte le domeniche nonostante tutte le difficoltà che provava. Si è detto tante volte, Magister Gaeta, si è detto tante volte di questo Papa che è stato un genio della comunicazione. Lui ha sempre sfruttato molto la comunicazione. E non ha smesso neanche proprio nei momenti finali della sofferenza a lui. No, no, assolutamente, assolutamente. Ma direi che gli anni finali sono stati quelli decisivi perché la sua fama di santità diventasse di dominio generale. Dall'eroe si passava all'immagine del santo. E secondo me ora che viene proclamato beato va detto che quel periodo della sua vita, l'ultimo, è il periodo delle abbiatitudini. Cioè lui ha vissuto le abbiatitudini di fronte al mondo. Le abbiatitudini dell'afflitto che verrà consolato. Di quello affamato e assetato. Di quello perseguitato perché è stato un Papa molto osteggiato. Un Papa molto irriso e deriso. Da chi? Beh, un po' da tantissime persone, da tantissime istituzioni. Non c'è il minimo dubbio che lui ha passato grande parte del suo pontificato combattendo contro una cultura dominante, combattendo contro istituzioni permeate da questa cultura che su alcuni temi percorrono e percorrevano delle vie totalmente opposte a quelle che lui sosteneva. E lui le sosteneva queste vie fronteggiando un'opposizione durissima. Parliamo della difesa della vita. Parliamo di certi istituti legati all'organizzazione delle Nazioni Unite. Pensiamo al 1994 quando ci fu un'enorme partita Papa al resto del mondo con la conferenza dell'ONU al Cairo sullo sviluppo della popolazione. Queste sono state le sue grandi battaglie che non gli hanno soltanto procurato un'avversione. Gli hanno procurato un'irrisione. E' un Papa che è stato molto schiaffeggiato alla colonna. Ebbene, nell'ultima parte della sua vita lui si è esposto esattamente come il perseguitato. Perché le abititudini sono la biografia di Gesù applicata ai suoi seguaci. Se guardiamo a quello che è un momento clou di questi ultimi giorni, il Venerdì Santo, mentre Ratzinger al Colosseo sentiva leggere tutte quelle meditazioni che ancora ricordiamo sulla sporcizia della Chiesa e così via, e invece noi vedevamo il Papa che era avvinghiato alla croce nella sua cappella dentro al palazzo apostolico, ripreso di spalle perché era l'unica maniera per non far vedere anche tutta la tracheotomia che aveva subito e per far vedere poi quello che avveniva lì al Colosseo, che era il cuore della celebrazione, possiamo pensare che una frase che ci è stata detta nel processo di beatificazione è proprio uno dei culmini del suo messaggio odierno a un cardinale che quella mattina gli diceva ma forse non è il caso di fare questa cosa, si affatichera troppo, ricordi c'è la celebrazione della Pasqua, lui rispose Cristo non è sceso dalla croce, perché dovrei scenderne io? Ecco questa è stata l'immolazione estrema, però lui era sempre consapevole di questo perché poi stemperava con tante battute anche in altri momenti, mi è stato raccontato ad esempio che una volta che era un po' curvo, affaticato in uno dei viaggi apostolici, passa davanti a uno specchio, si volta, guarda lo specchio col bastone, tu cammina dritto, ecco questo era Giovanni Paolo II che si autoironizzava e non aveva timore a mostrare anche la sua fatica, però a riprendersi in questa maniera un po' estemporanea e un po' simpatica anche di fronte agli altri, suscitando un sorriso che quindi permettesse di andare avanti a lui e a tutti. Domenica Giovanni Paolo II sarebbe edificato, noi più avanti abbiamo un'esclusiva, abbiamo proprio la persona che ha ricevuto il miracolo, ma adesso ci concentriamo un attimo perché facciamo intervenire nel dibattito anche gli ospiti che hanno ascoltato con tanta pazienza che sono Giuseppe Raco e Profeta per quanto riguarda la protezione civile e il 118, quindi noi siamo stati, i numeri sono tanti, abbiamo detto ci si aspetta un milione di persone e Roma è praticamente pronta, ma ancora in queste ore si sta organizzando al meglio per accogliere questa enorme massa di persone. Ormai ci siamo, ancora poche ore e nelle strade di Roma si riverseranno circa un milione di persone che arriveranno solo per partecipare alla beatificazione di Giovanni Paolo II, ma da molte settimane nelle stanze della protezione civile Capitolina si lavora per ridurre al minimo i disagi dei cittadini e dei pellegrini che dopo la veglia al circo massimo di sabato 30 aprile si sposteranno in piazza San Pietro per la cerimonia di beatificazione. 150 operatori della protezione civile gestiranno i 3.500 volontari dislocati tra le zone adiacenti San Pietro, il circo massimo, le stazioni ferroviarie della metropolitana e le zone di parcheggio dei pullman. Per l'occasione saranno attivi 35 luoghi di informazione turistica potenziati da molti operatori multilingue. 30 volontari polacchi inoltre agiranno nella zona dello Stadio Olimpico dove saranno dirottati gran parte degli autobus insieme ai passeggeri di tre treni speciali in arrivo dalla Polonia. Per venire incontro alla sete dei pellegrini nei magazzini della protezione civile è già pronto ad aggiorni un arsenale di un milione di bottigliette d'acqua che raggiungeranno presto i vari angoli della città. E dopo? Già è stato allestito un piano di recupero per il decoro della città con 1200 operatori dell'AMA pronti ad entrare in azione per far sì che Roma resti caput mondi anche dopo il primo maggio. Dunque Roma tutto è pronto per il beato Carol Wojtyla, tantissime persone e c'è bisogno di voi, quindi intanto grazie per tutto quello che state facendo e che farete e questo grazie va appunto alla protezione civile, va al 118, a tutti voi che vi prenderete cura e a tutti gli altri coinvolti. Tutte quante le forze chiaramente in campo perché il lavoro sarà tantissimo. Noi ci siamo preparati già da tempo ovviamente a questo evento così importante per accogliere al meglio i pellegrini ma anche i romani che vorranno partecipare agli eventi e anche perché questa figura straordinaria del Papa è stata molto vicina alla città di Roma. Ha visitato tutte le parrocchie presenti nella città e benediva ogni sera la città di Roma, quindi c'è anche un sentimento particolare verso questa figura. Il nostro piano, come ben ha detto il vostro filmato, prevede l'impiego di 3500 volontari nei tre giorni. Devo dire che in queste ore riceviamo tantissime richieste da parte di volontari da tutta Italia che vogliono comunque venire a dare una mano e di questo siamo felici e li ringraziamo perché devo dire l'adesione è stata veramente sentita. I volontari accoglieranno i pellegrini sin dai luoghi di arrivo, noi li avremo al porto di Civitavecchia, negli aeroporti di Ciampino e Fiumicino, presso le stazioni ferroviarie, le metropolitane, i parcheggi dei Pullman e accompagneranno i pellegrini lungo i percorsi di avvicinamento, dandogli tutta l'assistenza che richiederanno, quindi dall'acqua, le informazioni e quant'altro. Come avete detto anche voi ci saranno 35 punti di informazione turistica presso i quali verranno distribuite anche piantine della città, notizie utili e anche notizie circa l'offerta culturale che comunque la città di Roma ha voluto mettere in campo. Ci sono anche dei siti internet dove chiedere informazioni, dove poter avere informazioni insomma che è sempre meglio informarsi in questi casi perché la quantità di persone sarà talmente tanta che insomma è meglio essere preparati. Certo, per questa occasione Roma Capitale ha fatto un sito specifico che è raggiungibile anche dal sito del Comune di Roma, saranno oltre attivi anche i nostri numeri che sono 060606 e 0608 con operatori multilingue che potranno rispondere a tutte le esigenze. Le stime sono queste, le confermate? Cioè si prevede l'arrivo di un milione? Ma certamente il nostro piano è dimensionato partendo dal milione a salire, quindi siamo pronti ad accoglierli, ci saranno come avete detto molti pellegrini che verranno da fuori, stimiamo circa 400 mila, ci saranno molti turisti che comunque sono presenti sulla città di Roma e speriamo anche tanti romani, la città, i comuni vicini, i mitrofi che vogliano partecipare. Oltretutto ci sarà anche un altro evento, il primo maggio è anche festa dei lavoratori, c'è il concerto del primo maggio a Piazza San Giovanni da sempre a Roma, per cui anche questo credo che impegni ulteriormente già le norme... Ovviamente saremo presenti anche sul concerto come ogni anno, è un appuntamento fisso e staremo attenti a che i deflussi dei due eventi non vengano in qualche modo a coincidere, quindi che si svolga tutto nel modo migliore possibile. E le forze del 118 in campo? Le forze sono tante, abbiamo fatto attraverso la regione, la comune, la protezione civile, abbiamo fatto un piano che prevede a parecchie persone, non solo noi chiaramente perché noi non ce la faremo, ma associati alla Croce Rossa, alle Misericordie, ad tanti altri volontari. Noi abbiamo circa 18 PMA che sarebbero a punti medici avanzati, che saranno disposti nelle tre zone, via Conceliazione, Circo Massimo e per primo maggio a San Giovanni. Ci sono 85 ad ambulanze, abbiamo cercato di fare il massimo possibile, con il maggior sforzo possibile. A proposito del massimo possibile, lei ha seguito tutti gli eventi del 2005, dalla morte di Giovanni Polo II all'elezione di Benedetto XVI, ma si arriva a un livello di conoscenze di prevenzione che basta o ogni evento poi bisogna alzare, correggere degli errori, migliorarsi? Gli errori verranno sempre fatti. Questo vale anche per profeta. Certo, ma lavorando insieme, a contatto, gli errori verranno sempre fatti, però noi cerchiamo sempre possibilmente risolverli subito. Questa è la nostra problematica importante. Ma devo dire che per questo evento c'è stata una grandissima collaborazione, quindi Roma Capitale veramente ringrazia tutti gli enti, le istituzioni, il vicariato e l'opera romana per le grinaggi, con i quali abbiamo avuto veramente un rapporto straordinario. Quindi questa è la medicina migliore per cercare di minimizzare gli inconvenienti. Lei diceva prima una cosa che mi ha colpito, che dice che riceviamo tante richieste di volontari. Questo è emblematico. In questo paese viene sempre accusato, soprattutto i giovani, vengono accusati di essere un pochino troppo individualisti negli ultimi anni, di impegnarsi poco per il bene comune, di impegnarsi poco. Critica che io non condivido, che viene da una parte della popolazione. Però poi queste richieste massicce per questo evento di giovani che vogliono essere, vogliono starci, vanno in tutta altra direzione. Magiste. Eh sì, questa è una constatazione sul campo della ricchezza di sentimenti di dedizione che affiora il legame tra Giovanni Paolo II e i giovani, che è un legame ancora vivo. Certo, certo, questo papa è un testimone vivente di una dedizione portata all'estremo. Cioè, se c'è qualcuno che può insegnare e stimolare il darsi agli altri, è proprio lui. E a quei giovani che si sono mossi, l'hanno seguito? Certo, se pensiamo che chi oggi ha 30 anni è nato sotto Giovanni Paolo II, quindi in effetti ha conosciuto lui come papa per quasi tutta la sua vita. Come hai detto sedicesimo, appunto, è da sei anni, ma per 27 anni prima ha percorso quasi un'intera generazione. E questo è uno dei motivi forse anche per cui è proprio sentita nel cuore questa vicinanza, perché per tutta la vita si è visto sempre quello come papa, in quell'epoca ovviamente forte anche per i mezzi di comunicazione che per la prima volta potevano fare questo lavoro, e quindi per chiunque di noi è stato come veramente una presenza familiare, uno che stava sempre con noi come a casa nostra.